qui sono gli Outing On con Yali Yali ed è il viatico perfetto per portarvi metaforicamente ma anche un po' sinesteticamente indietro nel tempo per raccontarvi il concerto che ho visto al largo venue di Roma la settimana scorsa gli Outing On sono passati da questa città sono molto contento di averli recuperati peccato non averli visti nella formazione che comprendeva anche la cantante Merve Dasdimir ma come si pronuncia l'Altingon così? c'è la dieresi sopra la U è turco ma loro sono turco-olandesi ma come si pronuncerà? con la Altingon credo sì possibile Dicevo peccato non ci fosse la cantante Merve Dasdimir che è uscita dal gruppo recentemente probabilmente ha fatto la prima gamba del tour primaverile e poi ha salutato il gruppo è un gruppo come avete sentito tra i kraftwerk e la cultura e la musica tradizionale in questo caso è musica tradizionale turca popolare turca quindi possiamo fare un parallelismo e anche strecciare la loro cultura ma anche il loro progetto portarlo qui come se i subsonica facessero la musica di Giovanna Martini in chiave elettronica ok tu mi stai dicendo che i subsonica li paragoni ai kraftwerk? no però appunto una roba della stessa importanza no non c'è una roba della stessa importanza no 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 come se i kraftwerk facessero la musica popolare romana italiana insomma il coniubo è veramente molto 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 interessante molto curioso sicuramente il progetto Altingon è quanto mai stato goduto da me e mi ha colpito nella sua semplicità cioè il fare musica il groove anche la commissione di suoni l'intersecamento della linea vocale e della parte un po' più synth un po' più lisergica produce mi affascita moltissimo e devo dire che a largo venue in un set molto tirato molto 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 denso il concerto è stato veramente molto molto divertente il pubblico non scarso non c'era poca gente quindi cosa molto bella era un pubblico tra l'altro che se la godeva tantissimo ballava abbiamo ballato praticamente dall'inizio alla fine dei 90 minuti più o meno di set e era anche piuttosto preparato cioè quindi mi ritrovavo accanto a persone che probabilmente non è facile da cantare questa musica non cantava nessuno o meglio no qualcuno cantava qualcuno qualche persona cantava sì 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 però appunto sarebbe stato divertente scoprire quando e da che punto sono arrivati come hanno scoperto questo gruppo per esempio io devo ringraziare fortemente Claudio Di Biaggio che l'ha ne ha parlato e li ha portati anche in una sua playlist Claudio Di Biaggio che tra l'altro era presente ma vedo che per esempio la band ha contribuito alla colonna sonora di uno spot della Apple ma soprattutto di un videogioco di Star Wars e hanno prodotto tre brani con il nome Alting Laser Blaster ma quindi appunto sarei curioso anche di recuperare questi tre brani però appunto si arriva a questo concerto era palese si arrivava da diverse strade e il vedersi e vederli sul palco era veramente il coronamento di una ricerca sonora che appunto anche grazie ai distributori di musica nel nostro piccolo anche noi li trasmettiamo sovente erano veramente io ce l'avevo nel taccuino da molto tempo suonerando di nuovo a Roma hanno fatto tre date tra l'altro vedo e faccio notare cosa strana tre date in Italia in Italia in questo periodo hanno suonato a Roma a Bologna e a Segrate ma la set list di Roma non è nella solita nel solito sito che contiene praticamente tutte le scalette di tutto il mondo di tutti i concerti non c'è la scaletta non è stata caricata da nessuno probabilmente perché vai a scrivere questi titoli perché leggo i titoli dei singoli no non è che li voglio leggere però su wikipedia leggo i titoli sono praticamente quasi tutti in turco sembrerebbe io mi faccio aiutare da google traduttore per annunciare il prossimo brano che è proprio quello che ha chiuso o meglio abbiamo sentito Yali Yali e subito dopo capisci? capisci scrivila la scaletta adesso che vuol dire la scopa fatta di trifoglio ah bene adesso è tutto più chiaro comunque il concerto si è concluso con il brano che vi racconteremo tra pochissimo ma soprattutto Yali Yali e questa Supergessi Yonjadan erano un crescendo di viaggioni ecco mettiamola così che si è portato il concerto a livello successivo prima di finire con la pausa hanno fatto poi solo un bis ma comunque hanno veramente 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 spaccato dicevo che torneranno in concerto in Italia all'interno di un festival che avevo visto in una in una la valle dei templi se non sbaglio voglio vedere ah si me l'avevi detto è un festival che ecco festivalle nella valle dei templi proprio ecco appunto mi ricordavo bene suoneranno dal non gli Altinganna ma c'è un ad agosto dall'8 all'11 agosto del 2024 ad Agrigento nella valle dei templi c'è una line up veramente mostruosa si parla ovviamente di di world music ma non vedo anche Frida Bollani quindi c'è veramente per per tutti i gusti la ho visto line up mostruosa perché ci sono due cose che lui sta in fissa questi Altinganna e il mago del gelato allora dove stanno no pure loro c'è scritto il mago del gelato e c'è anche Populous per questo beh quasi quasi riprendo la valigia fatta e andiamo è veramente cioè vado perlomeno visto che l'ho visto da soli gli Altinganna a Roma posso anche andare alla valle dei templi ma guarda forse alla valle dei templi ci vengo pure io non è che necessariamente per gli Altinganna però però da quello che vedo della foto senza nulla togliere a tutti gli altri date tutti gli altri concerti degli Altinganna ma in generale questo festivale ha una una cornice una splendida cornice veramente mostruosa perché appunto suonare nella valle dei templi è piuttosto incredibile Daniele ha ricorda anzi fortissimi scrive fortissimi gli Altinganna dalla Turchia comunque tanta bella musica loro sono originari della Turchia ma si sono conosciuti formati in in Olanda esattamente sono nederlandesi come direbbe mesculine ma soprattutto sono stati sono stati raccolti si sono uniti dopo una chiamata alle arti di del del bassista se non sbaglio che ha avuto un po' di problemi sul palco ma comunque è un metronomo mostruoso sì esatto è Anatolik Rock 60-70 il brano che vi ho appunto annunciato e vi faccio anche ripetere sfoggio anche il mio turco anatolico lo faccio anche senza il labiale perché è un termine che si può ripetere quando parli in turco sembra quasi che tu cambi genere sì non è un problema è un pezzone è proprio un pezzo fortissimo ed è un pezzo di 5 minuti e 29 minuti 29 secondi 5 minuti e 29 minuti bello allacciate le cinture lungo 2 5 minuti e 29 minuti Grazie.